allora sono qui con solido sono qui sempre col mio diciamo foglio per poi fare il cartellino di lavoro ok e però io l'avevo creato con l'idea di usare il property tab builder ma l'ho importato a questo punto vedete qui io non trovo più il ciclo raw punto drv prp non lo trovo più in realtà ce l'ho però ipotizziamo che non l'ho più trovato ok non c'è voglia di farlo a questo punto cos'è che posso fare ok io posso andare qua in file proprietà e qui io ho parecchie proprietà che erano dovute al al come si può dire a quel file la ok che io poi in classe avevo cambiato ma non si aggiornava non si aggiornava perché perché c'è una discrepanza tra quello che avevo io sul mio computer quel file che avevo io sul mio computer e il file che è stato creato perché ogni alunno aveva creato e probabilmente avevo messo le proprietà che voleva lui allora dunque non c'è uguaglianza dunque alla fine per esempio se io vado qua il nome si chiama come dove ci dovrebbe essere al posto di di vita ci dovrebbe essere il mio ok però io l'ho messo come nome tanto faccio contro ci nome ok allora qui com'è che faccio allora questo questo metodo o devo devo dire un grande grazie al mio alunno vince di quarta m che è stato bravissimo a darmi la soluzione velocissima ok perché uno sennò cancella e rimette no si può fare anche senza cancellare allora a questo punto io cos'è che fatto vado per forze modifica formato foglio se vedo questo qui è nel property ma si chiama casella testo 3 file andiamo in proprietà ok andiamo a vedere qui io non ce l'ho casella testo 3 però c'è un nome ok o metto casella testo 3 qua e metto cioè cambio nome con questo qua di casella testo 3 o faccio l'opposto ok perché potrei semmai la soluzione casella testo 3 la facciamo in un altro ok facciamo adesso questa qui cioè la soluzione suggerita dal mio mitico alunno vinci che comunque consiglio a tutti di assumere quando finirà perché è bravissimo ok e perché quando finirà la scuola va bene a questo punto cos'è che io faccio a nulla qua vado tasto destro sul property ok qui non modifica testo perché sennò mi toglie modifica testo nella finestra ripeto mo tasto destro rifacciamo tasto destro ok modifica testo nella finestra a questo punto io vado qui tit 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 cancello col cance ctrl v nome vedete che arriva simone orio top of the top top of the top top of the top quello lì sarà sempre legato se io voglio cambiare posso andare qua proprietà metterò invece che simone orio pippo 2 pippo baudo se no pippo baudo e faccio ok e lì si chiamerà pippo baudo però adesso lo ricambio perché non mi piace pippo baudo piace il mio pippo baudo ok dunque file proprietà e vado a chiamarlo dove che è nome vado a chiamarlo simone ok e lui dunque non dovrò aprire nemmeno il foglio il formato foglio perché già da qui io lo cambio andando in proprietà no non sono obbligato è che non sono obbligato ad aprire il formato foglio naturalmente se questo è collegato al property tab builder a questo punto le modifiche le faccio tutte qui adesso dopo andremo a vedere dopo però ecco si può fare così a questo punto no no qual file lì sono la zavona non voglio quando vorrò cambiare andrò qui su property proprietà e vado a cambiare i vari ok che in automatico mi cambieranno qui naturalmente 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 il problema è che col property tab builder ci si potrebbe costruire anche l'elenco e qui invece l'elenco non c'è vabbè 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 vabbè